Il direttore, l'allenatore, Simone o Scout e quant'altro hanno veramente fatto un ottimo lavoro e credo che veramente abbiamo composto una squadra forte e penso che l'abbia capito anche la gente, anche la tifoseria perché alla fine guardando i social network si vede che la gente ha completamente cambiato idea e sono stati portati a Padova giocatori veramente importanti e credo che tutti quanti i giocatori che sono stati portati a Padova, la maggior parte dei giocatori hanno sempre giocato in Serie B quindi sono contento per quello, sono contento, vedo la squadra giocare, vado a vedere gli allenamenti, mi diverto perché vedo veramente una squadra che gioca bene quindi in questo momento sono felice insomma tutto qua. Quando i giocatori scegliono Padova, scegliono Padova anche per la piazza, per il blasone, per la tifoseria che c'è e quindi sicuramente loro sono un lato fondamentale di questa città e quindi penso che la tifoseria, la città di Padova se riesce a far bene, riesce a fare bene grazie ai tifosi. Alla fine se siamo uniti, società, tifoseria, stampa e quant'altro sicuramente i risultati vengono perché la ricetta è quella, il calcio non lo inventa nessuno quindi credo che è solamente un mix di cose che può portare ad avere ottimi risultati. Signori e signori, buonasera, benvenuti alla presentazione delle maglie ufficiali del Padova. Ringrazio ovviamente tutti gli sponsor che hanno contribuito in maniera fondamentale al progetto. Il progetto è iniziato, dobbiamo portarlo avanti, lo porteremo avanti con entusiasmo e con la volontà anche di dare prestigio alle persone che ci stanno aiutando in questo progetto con l'obiettivo ovviamente di fare il massimo dei risultati.